Siamo qui al villaggio Palumbo, è notte ma da noi abbiamo appena finito di sciare e in effetti qui si può sciare in notturna. Le piste sono perfettamente innevate, quest'anno siamo stati fortunati, la stagione ci ha premiato, è nevicato molto e quindi gli impianti sono aperti su tutte le piste. Si scia in notturna grazie anche agli impianti artificiali ed innavamento programmato che noi già abbiamo da diversi anni. Funziona il palaghiaccio, gli hotel sono pieni, quindi diamo il benvenuto a questa splendida stagione invernale. Buonasera, siamo al villaggio Palumbo, siamo al villaggio Palumbo in una splendida serata, una serata molto fredda ma con una neve eccellente e di qualità. E' la prima sciata in notturna dell'anno perché questa sera, oggi è sabato, il 12 di gennaio noi siamo pronti per la prima sciata in notturna come dicevo. E' l'unica pista illuminata del sud Italia che stasera dà in via la stagione invernale notturna a tutti gli effetti. Abbiamo tantissima neve, neve prima artificiale programmata dai nostri cannoni e successivamente una bella nevicata di neve naturale che ha completato come si dice l'opera. I gatti hanno battuto fino adesso, quindi hanno preparato una pista che alla mia spalla è meravigliosa. Abbiamo delle piste veramente splendide oggi, nei giorni a seguire perché abbiamo con cura preparato, le abbiamo con cura preparate e quindi siamo pronti ad affrontare la nuova stagione invernale. Due impianti funzionanti su quattro e speriamo nel futuro di averne ancora di più. E' una grande affluenza di vacanzieri, extra regione sicuramente, dalla Sicilia e da Puglia, un'invasione, tutto esaurito, non ci sono hotel disponibili, quindi camere, appartamenti, non c'è più nulla. Specialmente nei fini settimana è tutto prenotato e tutto esaurito. Grande e eccezionale richiesta per le strutture d'eccellenza, di qualità, principalmente le strutture che hanno all'interno delle spa, dei centri di benessere, quindi una buona cucina. L'eccellenza premia sempre. In questo momento il villaggio Palumbo è nato una struttura, un nuovo hotel in National Park che veramente sta riscuotendo un successo eccezionale. Vi invito quindi a venire a visitarci, a vedere sulle nostre piste. Tra poco vi porteremo al Palaghiaccio, vi faremo vedere anche la pista di ghiaccio, l'unica pista di ghiaccio funzionante al sud. Una pista coperta di 2.500 metri quadri che in questo momento è tutta prenotata, quindi è un grande successo anche sul ghiaccio. Quindi vi aspettiamo, vi invito a venire a trovarci con possibilmente un'escursione con le motoslitte che tra poco useremo o con i nostri quad o con il gatto taxi delle revi. Grazie a tutti.